Bella per voi raga, bentornati in Laziali senza tempo, qui è Marco, Diego stai al lavoro, che ti fa? Purtroppo questa è la vita. Empoli Lazio 1-3, buona la prima, salutate la capolista, come... vabbè, si scherza. Devo dire, gran bella partita raga, all'inizio stavamo giocando molto bene, abbiamo fatto due azioni pericolose e poi l'Empoli ci ha fatto subito il gol, proprio pa, purgati. E subito dopo in realtà poi noi abbiamo messo le cose in chiaro, abbiamo fatto subito il primo gol con Milinkovic-Savic che penso stanno raga faccia minimo 10 gol, perché comunque io a fascia destra con Milinkovic, Felipe Anderson e Lazari secondo me fanno le buche clamorose, poi il secondo gol proprio di Lazari che su un 1-2 con Milinkovic-Savic buca la difesa arriva davanti probabilmente al portiere da solo e tira un bel destro a fil di palo e il terzo gol, Ciro Immobile, trasforma il rigore preso da Acerbi, nettissimo ovviamente quel rigore che il portiere esce su Acerbi senza andare sulla palla e diciamo che probabilmente tutti i gol sono arrivati nel primo tempo il secondo tempo un po' così, ha giocato un po' di più l'Empoli che sul finire grazie a Bairami che sembrava veramente un ottimo giocatore ha rischiato davvero da fare il secondo gol, se non anche il terzo, ha rischiato da pareggiare però in realtà noi abbiamo controllato bene la partita una certa è successa una cosa clamorosa ragazzi, non so se venite d'accorti prima di tutto mettete mi piace, scrivetevi, commentate, campanella e tutte quelle belle cose e sto cambiando Milinkovic, Milinkovic per Andre Anderson una cosa che l'altro anno non sarebbe mai successa manco se Milinkovic stava a giocare con una gamba sola e stanno invece, hai visto? Se può fare Inzaghi, hai visto? I gambi, è una certa, se può fare, però vabbè se vede che c'è stato un altro allenatore sulla panchina molto contento della prestazione dei giocatori e ora vediamo proprio, giocatore per giocatore devo dire che la difesa, se continuiamo a giocare così che prendiamo un sacco di ripartenze a vedo dura stanno, penso ne prendiamo proprio tanti di gol se non riusciamo a mantenere bene le linee da linea 4 a B2 la linea 4, perché Lazzari quando lo in attacco attacca bene ma in difesa quando chiude sul difensore sì, sul difensore, sull'attaccante della squadra avversaria riesce sempre quello sulla fascia libero cioè lì c'è qualcosa da rivedere per forza perché ne avevo prese veramente tante ripartenze e ci sono state tante occasioni che date così anche da lancio lungo loro e noi la linea difensiva troppo basta vicino al portiere lì c'è l'unica cosa da migliorare secondo me sulla difesa sono quelle Lazzari grande partita Acerbi anche lui grande partita Luis Felipe ha starfato un gol praticamente fatto si è messo davanti alla porta e ha spazzato via la palla dopo un tiro, non mi ricordo di chi era comunque un attaccante dell'Empoli per fortuna raga perché quello era sicuro Isai sembra che praticamente giociamo quasi sempre su di lui quando ci sta data via la palla dalla difesa praticamente quando Renna deve rinviare a passare la palla a qualcuno la passa quasi sempre sulla sinistra Isai che ricordiamo che è adattata a sinistra Centro campo Lucas Leiva diciamo bene anche lui è stato cambiato per Escalante al secondo tempo diciamo bene però tocca molto meno palle quest'anno fa molto più da filtro in realtà però anche lì al centrocampo c'è da fare qualche cosa secondo me c'è da stringere più davanti alla difesa perché quando andiamo all'attacco regà le ripartenze le prendiamo poco male Milinkovic secondo me gran partita al secondo tempo un po' spento infatti era cambiato però stanno esplodendo proprio di finemente secondo me Savic e Pogic c'era Akpak Pro grande partita secondo me di sostanza anche se entra come un pazzo ho visto certe entrate in scifolata da prenderlo chiuderlo a chiave dentro una cera e lasciarlo là minimo un anno perché se prendeva il piede di un giocatore dell'Empoli o fracassava però grande Gian Daniel grandissimo attacco Pedro immobile Felipe Anderson Felipe Anderson buono ma ancora secondo me deve prendere un po' di fiducia per cominciare a far vedere quello che era cioè puntare l'avversario a saltarlo anche se due o tre cose l'ha fatta è bene è bene soprattutto l'assist per Milinkovic il secondo gol è il primo gol da Lazio bravissimo Felipe Anderson è un critico su quella palla e non mandarla in rimessa dal fondo invece ha appazzato Milinkovic e c'è lui le testa gol Pedro Pedro regà si è visto ha dato davvero il fritto in campo ha fatto secondo me non so se il migliore del primo tempo sicuramente Pedro regà perché proprio di sostanza non si fermava mai su tutte le palle recuperava ha dato il fritto pure su una palla in difesa ha cominciato a correre l'ha recuperata finché l'ha recuperata anche se l'ha mandata in cioè lui è riuscita a recuperarla però purtroppo l'ha mandata in fallo laterale mi pare comunque non è riuscita a prendere la fine per rigiocarla seppure è scusato quindi grande partita di Pedro immobile così e così secondo me si è ancora riprendita un po' dall'altro anno certe cose poteva far meglio anche alla fine del secondo tempo c'è stata un'occasione che noi riprendiamo palla in attacco dopo uno sbarione dalla difesa dell'Empoli lui invece da passare a Raul Moro che probabilmente stava davanti la porta da solo sarebbe stato probabilmente gol la passa a Andre Anderson facendo un 1-2 diciamo e lì doveva essere un po' più sui che passare a Raul Moro Andre Anderson anche se ha fatto un buon tiro comunque l'ha mandata fuori e va bene così quelli che sono subentrati scalanti così e così perché ha giocato poco Morici anche lui ha protetto palla come fa sempre poi è entrato Luiz Alberto Luiz Alberto al posto di Luiz Alberto al posto di Cantato e Hack Pack Pro all'inizio del secondo tempo bene e male si è visto comunque ancora ci ha da recuperare un po' l'affaticamento che c'era però Luiz Alberto rimane comunque il giocatore di classe che è sempre stato chiudendo il tutto diciamo che sì si è visto un po' l'impronta dei Sarri anche se c'è da rivedere qualcosa perché se andiamo a giocare contro l'Inter che oggi ha fatto 4 gol 5 gol non mi ricordo manco più ha fatto un partitone e se andiamo a giocare contro l'Inter così e prendiamo le ripartenze davvero minimo 6 gol ci fanno quindi qualcosa è da mettere a posto per forza non si poteva presentare in queste condizioni contro le big del campionato oggi era l'Empoli l'avevamo sbangata scampata però con le big dobbiamo fare qualcosa di più perché non si può fare così dobbiamo fare qualcosa dobbiamo restare in chiaro bene la linea difensiva a 4 a quelli che sono abituati con la linea 3 perché abbiamo giocato sempre così e a centrocampo ci resta un po' più di compattezza perché se no che ripartenze le subimo tutte e vabbè però tutti contenti gliene abbiamo fatti 3 tutti quanti insieme gliene fanno 3 mi piace il commento iscrivetevi forza Lazio se beccamo al prossimo video bella per voi grazie a tutti